Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. In questo video andremo insieme a vedere nel dettaglio quella che sarà la prossima puntata di La ragazza e l'ufficiale. Prima di iniziare però, iscrivetevi subito al canale, così non vi perderete nessun'altra anticipazione che pubblicheremo. Fatto? Ok, iniziamo! Pochi giorni sono trascorsi dall'arrivo della lettera di Murvet, in cui la sua richiesta di divorzio è stata esposta senza mezzi termini. In questo frangente, Seid prende la decisione di fare ritorno in città. Prima di recarsi da Murvet, fa una breve sosta a pera per potersi cambiare d'abito e mettersi a posto, probabilmente consiglio dell'importanza, di presentarsi in modo adeguato. Nel frattempo, la notizia dell'imminente arrivo di Seid si diffonde come un raggio di luce all'interno della dimora di Murvet. Aiz, sempre pronta a cogliere le occasioni, sfrutta subito questa informazione per scagliare un commento tagliente, deliziandosi nell'infondere un po' di caos nel già delicato contesto familiare. Tuttavia, è in quel preciso momento che Murvet decide di condividere con sua madre il carico dei suoi sentimenti, aprendosi su quello che sente davvero. È qui che il suo desiderio di mettere fine al matrimonio e di ottenere il divorzio viene rivelato, spiegando finalmente il suo stato d'animo e i suoi propositi futuri. Nel frattempo, Seid si trova immerso nell'atmosfera scintillante di una gioielleria, mentre si appresta a scegliere una preziosa collana per Murvet. In quel preciso istante, la porta del negozio si apre e entra Sura. I loro sguardi si incrociano, scambiando un saluto che non può nascondere la complessità dei loro sentimenti. La tensione è palpabile, carica di un imbarazzo che rispecchia il passato intricato tra loro. Sura, nonostante tutto, non può fare a meno di rivolgere una domanda a Seid, chiedendogli da quanto tempo sia tornato. Una traccia di malinconia si dipinge sul suo volto, mentre con delicatezza fa eco ai ricordi, confessando che un barlume di speranza aveva riacceso in lei quando lo aveva visto partire per l'Anatolia. Tuttavia, la realtà dell'attuale momento, con Seid presente in gioielleria per selezionare un regalo destinato a Murvet, fugge le illusioni di speranza. Sura si rende conto, con un po' di amarezza, che le sue speranze erano fondate su basi fragili e che la situazione è ben diversa da ciò che aveva immaginato. In seguito, in quel luogo raffinato e scintillante della gioielleria, Sura compie un gesto audace e indaga con sottigliezza. Vuole conoscere la verità dietro la loro separazione. Con occhi che nascondono una miscela di curiosità e dolore, le sue parole prendono forma delicatamente. Vuole capire se Seid l'ha abbandonata quando suo padre l'ha spinta a sposare una ragazza turca, oppure se ha deciso di allontanarsi da lei quando la sua famiglia è stata colpita da un lutto tragico. Nel momento in cui le sue parole si diffondono nell'aria, si avverte la tensione emotiva che le accompagna. Con un tocco di vulnerabilità, Sura confessa a Seid che il suo amore per lui non ha mai conosciuto declino nel corso del tempo. In modo diretto, gli chiede se i suoi sentimenti sono ancora radicati nel profondo, se l'amore che provava per lei un tempo è ancora vivo. L'atmosfera è carica di aspettative e timori, mentre Sura attende la sua risposta. La risposta di Seid è intrisa di un amaro sincero. Esprime la sua delusione riguardo al fatto che lei non abbia mai creduto alle sue parole d'amore, che i suoi sentimenti siano stati messi in dubbio per un lungo periodo. Questo senso di incertezza che lo ha accompagnato è stato fonte di sofferenza. Con una punta di rassegnazione, riconosce che le loro strade ora sono divergenti. Accetta questa cruda realtà e, senza ulteriori indugi, si allontana dalla gioielleria, lasciandosi alle spalle quella scena intensa e carica di emozioni. In una successiva occasione, Seid si incammina verso la dimora di Murvet. Mentre si avvicina, l'ansia cresce nel suo petto, ma ha anche la speranza di trovare un terreno comune su cui poggiare. Tuttavia, quando varca la soglia, è accolto da un'aura di freddezza che si diffonde dall'atteggiamento di Murvet. L'ambiente stesso sembra permeato da questa tensione emotiva, facendo sì che ogni passo risuoni con un eco di distanza. Nel frattempo, si svolge il festoso evento del compleanno di Valentina. L'aria è carica di allegria, mentre Sura, Petro, Serge e Alia condividono lo spazio con Valentina. L'atmosfera di festa sembra allontanare temporaneamente le ombre del passato, almeno per quel momento. Nel corso dei festeggiamenti, Tina prende la parola per esprimere il suo riconoscimento a Serge, ringraziandolo per essere stato al suo fianco quando Sura era assente. Tuttavia, non sfugge a nessuno l'evidente interesse romantico che Tina nutre verso Serge. Nonostante i suoi sforzi, però, la sua attenzione sembra cadere su terreno sterile, poiché Serge è immerso completamente nel suo mondo, concentrato esclusivamente su Sura. La festa si svolge in uno spazio che diventa un crocevia di emozioni contrastanti, dove le gioie del presente si scontrano con le ombre del passato e le tensioni amorose si fanno sempre più palpabili, come un sottofondo che non può essere ignorato. Guidata dalle parole incoraggianti della madre, Murvet raccoglie il coraggio necessario per affrontare Seyit. L'idea di un confronto imminente la riempie di emozioni contrastanti, dall'ansia all'anticipazione, ma è determinata a chiarire le cose una volta per tutte. Quando infine si trova di fronte a lui, nei loro sguardi si leggono anni di storia condivisa. Senza esitazione, Seyit apre il suo cuore e rivela i suoi pensieri. Confessa che ha riflettuto a lungo su quanto sia accaduto tra loro e che, in realtà, non è il divorzio ciò che desidera. Al contrario, vuole porre fine ai conflitti passati e inaugurare un nuovo capitolo insieme a Murvet. Con delicatezza e sincerità, condivide il suo desiderio di costruire una vita condivisa, una vita lunga e felice, che possa superare le ombre del passato. Per sottolineare queste parole, Seyit estrae un ciondolo prezioso che ha scelto appositamente per Murvet. Lo posa con cura al suo collo, un gesto simbolico che rappresenta la promessa di un futuro da costruire insieme. L'atmosfera è carica di emozioni, e il bacio gentile che posa sulla guancia di Murvet trasmette un sentimento di affetto profondo. Un abbraccio, dolce e avvolgente, segue naturalmente, come un abbraccio che unisce il passato al presente e il presente al futuro. Per Murvet, inizialmente titubante e incerta, le parole e i gesti di Seyit rappresentano un richiamo irresistibile. Gradualmente, le sue riserve si sciolgono, e si lascia avvolgere dall'abbraccio del momento, unendo i loro destini in quel frangente di comprensione e amore rinnovato. Nel frattempo, durante la celebrazione del compleanno di Valentina Soura, ancora scossa dall'incontro con Seyit, prende la parola per fare un annunzio sorprendente. Davanti a tutti, annuncia la sua decisione di sposare Petro. La notizia genera sia, incredulita generale Ceggioia, si inserà da parte di Petro stesso. Seyit e Murvet, dopo aver superato le tensioni che li avevano separati, si ritrovano finalmente insieme, e fanno l'amore. La notte trascorsa è stata un incrocio di emozioni e riflessioni, e al risveglio, la luce del mattino sembra portare con sé una nuova energia. Con una gentilezza che testimonia il desiderio di costruire qualcosa di speciale, Seyit propone a Murvet un'idea che si discosta dalla norma. Invece di trattenersi in casa, vuole portarla fuori per fare colazione. Questa proposta insolita, fuori dagli schemi consolidati, riflette il desiderio di Seyit di costruire qualcosa di diverso, di infrangere le barriere del passato e di abbracciare un presente più libero. La sua proposta è simbolicamente significativa. Rompere con le tradizioni significa anche aprire la strada a nuove possibilità, a nuove prospettive, che potrebbero essere la base per il loro futuro insieme. Per Murvet, questa proposta rappresenta un invito a sperimentare, a guardare oltre ciò che è familiare, e a lasciarsi guidare dalla curiosità e dal desiderio di cambiamento. Insieme, Seyit e Murvet si trovano sulla soglia di una nuova fase della loro relazione, e questa semplice colazione fuori diventa un simbolo di quel cambiamento imminente. Emine, la madre di Murvet, suggerisce alla figlia di coprirsi bene e di non recarsi a pera, oltre a consigliarle di fare attenzione durante il viaggio in carrossa. Seyit risponde che trascorrere del tempo, da soli aiuterà loro a conoscersi Meglio. In risposta alla sua domanda, Murvet chiede a Seyit se l'amerà mai allo stesso modo in cui ha amato Surah. Seyit la supplica di non scavare nel passato e di guardare al futuro. Poi cerca di abbracciarla, ma Murvet gli fa notare che è un gesto inopportuno. Tuttavia, lei accoglie il suo abbraccio stringendogli un braccio. Nel frattempo, Surah si sta preparando per uscire quando Valentina fa irruzione nella stanza. Valentina esprime le sue congratulazioni per la decisione di sposare Petro, ma ben presto la conversazione degenera in una lite. Surah confessa che ha accettato di sposare Petro, principalmente perché sua sorella stava cercando in ogni modo di allontanarla da Serge e sentiva che Valentina la odiava. In risposta, Valentina schiaffeggia Surah e se ne va, lasciando Petro, che si trovava in un'altra stanza ad ascoltare l'intera conversazione. Nel cuore dell'hotel Seref, l'atmosfera in cucina è pesante e carica di emozioni. Alia, visibilmente diversa dal solito, è lì e le lacrime rigano il suo volto. Guzide si avvicina a lei con la volontà di parlare e Alia si apre raccontandole della notte d'amore trascorsa con Petro, ma svela anche il crudo fatto che Petro ha proposto poi il matrimonio a Surah e quest'ultima ha accettato. Nel frattempo, Surah raggiunge Tina per scusarsi per la lite che avevano avuto precedentemente. Con sincerità, Surah confida a Tina che i suoi pensieri sono ancora rivolti a Seith e che non è certa di nulla, eccetto dell'idea che se Tina la dovesse abbandonare, lei si sentirebbe smarrita. Mentre tutto ciò accade, Aiz e Emine sono impegnate a stendere il bucato insieme. In questa occasione, Aiz coglie l'opportunità per raccontare a Emine tutta la storia che ruota attorno a Seith e Surah. Dal rifiuto della famiglia di Seith nei confronti di Surah, alla tragica fine di entrambi i genitori, e fino alla loro fuga. Seith, d'altro canto, è con Murvet. Dopo aver condiviso la colazione, decide di portarla a vedere la casa che ha affittato per loro a Perah. In questo modo, cerca di aiutarla a superare l'imbarazzo che lei prova costantemente nei suoi confronti. Tornati a casa, Emine è furiosa per le lunghe ore trascorse fuori, e ancora di più quando scopre che sono stati a Perah. Murvet tenta di spiegare che hanno visitato la casa affittata da Seith, ma Emine, in preda alla rabbia, ribadisce con forza che la loro casa è quella in cui abitano e che non vivranno mai altrove. Al termine della giornata lavorativa, Surah esce dal suo lavoro, e viene sorpresa da Petro, che l'attende con una sorpresa speciale. Due violinisti creano un'atmosfera incantevole, mentre Petro le consegna un anello di inestimabile valore dalla sua famiglia. Con sincera gioia, le assicura che farà di tutto per renderla felice, e che il suo sogno sta per diventare realtà. Surah risponde con gratitudine, promettendo che cercherà di essere una moglie premurosa. Nel frattempo, Seith è assorto nell'osservare alcune carte, quando Murvet fa il suo ingresso. Con gentilezza si scusa per il comportamento della madre, e spiega che la madre agisce così, perché sono passati oltre 12 anni da quando si sono viste per l'ultima volta. Seith condivide con lei i suoi progetti. L'apertura di un ristorante in cui le persone che sentono la mancanza della Crimea possano ritrovare i piatti tipici, e condividere momenti di nostalgia e gioia. Descrive Pera come un luogo in cui si radunano persone che non hanno una patria, persone che sono prive di una nazione, e che lui desidera offrire loro un luogo in cui sentirsi a casa. Non sapendo che Emine sta ascoltando dietro la porta, Seith aggiunge che intende trasferirsi a Pera, poiché vivere sempre lì sarebbe come infrangere le sue ali contro mura inamovibili. Il mattino seguente, Seith si prepara per andare al lavoro, e improvvisamente viene intercettato da Luftu, che gli comunica la data per il loro imminente affare. Nel frattempo, Sura è seduta a colazione con Valentina e Petro. Curiosa, chiede a Petro quando avrebbero programmato il loro viaggio in Inghilterra. Valentina, sorpresa dalla domanda, vuole sapere quando avessero deciso di partire. Sura spiega che aveva dato per scontato che dopo il matrimonio sarebbero partiti per l'Inghilterra e che lei sarebbe andata con loro. Tuttavia, Tina interviene, dichiarando che desidera iniziare una nuova vita a Istanbul e non ha intenzione di tornare in Inghilterra. Successivamente, Petro si dirige in un hotel dove tutti stanno festeggiando il ritorno di Yahya dopo alcuni giorni fuori città. Nel mentre, Alia evita deliberatamente Petro, ma lui la segue e, in un momento privato, le confida che il matrimonio con Sura non cambierà nulla tra di loro. Sottolinea che Sura rappresenta un obbligo per lui e che si sente vincolato da questa situazione. Alia lo implora di non continuare ad offenderla, ma prima che possano proseguire, Guzide fa la sua entrata, interrompendo la conversazione. Nel frattempo, Seid si trova nella lavanderia e coglie un sussurro tra le sue impiegate. Poi, una signora si avvicina a lui per congratularsi per il suo recente matrimonio, chiedendogli di far pervenire i suoi saluti alla signora Sura. In seguito, Seid si imbatte in Sabri, chiaramente agitato. Durante la conversazione, Seid condivide con lui i dettagli dell'amore che ha vissuto con Sura e di come entrambi si siano feriti reciprocamente. Tuttavia, specifica che il posto di Sura nel suo cuore non sarà mai sostituito. Sabri risponde in modo deciso, affermando che Sura sarebbe rimasta al suo fianco fino alla fine. Seid replica, affermando che vuole che Sura viva, non muoia. A questo punto, Sabri gli chiede perché non menziona il fidanzamento di Sura con Petro. Proprio in quel momento, Petro arriva e Seid gli domanda se quanto detto è vero. Petro risponde che lo ringrazia, sottolineando come gli errori di Seid lo abbiano avvantaggiato. Seid ribatte, affermando che Sura è così accecata dall'ira nei suoi confronti da non vedere le conseguenze delle sue azioni. Petro lo provoca ulteriormente, dicendo che presto Sura sarà sua moglie a tutti gli effetti, anche nell'alcova. A questo punto, l'ira di Seid raggiunge un punto critico e gli sferra un pugno, scatenando una rissa tra i due. Seid scaglia una minaccia di morte contro Petro, che a sua volta ribadisce di averlo ormai sconfitto. La situazione sfocia in una rissa che viene prontamente interrotta da coloro che li circondano. Con foga, Seid avverte Petro di non incrociare più la sua strada. Una volta rientrato a casa, Seid è costretto a giustificare i graffi sul suo viso, suscitando grande preoccupazione in Murvet. Nel frattempo, Petro torna da Sura e le spiega che le lesioni al volto sono state causate da soldati britannici. In quel momento, Alia giunge alla porta, incoraggiata da Sura a rimanere per cena. Non perdendo l'occasione, lancia una frecciata tagliente a Petro. Nella serata, Seid regala dei vestiti a Murvet. Tuttavia, lei è timorosa e impacciata nel provarli. Alla fine, si mettono a letto insieme. Murvet apre il suo cuore, confessando di essere confusa e di avere domande senza risposte. Tuttavia, esprime come il suo spirito si sollevi e trovi pace quando è tra le braccia di Seid. Lui risponde con un bacio sulla fronte e le promette che sarà sempre lì per farla sentire in quel modo. Nel frattempo, una carrozza carica di rivoluzionari viene fermata per un controllo. All'interno della carrozza si trova una bara e i soldati chiedono loro di aprirla per verificarne il contenuto. Con sorpresa, scopriamo che dentro la bara si trova Celil, che è sdraiato fingendo di essere morto. Non appena la carrozza è autorizzata a proseguire, si rende evidente che Celil è gravemente ferito. Con determinazione, esprime il suo desiderio di raggiungere Istanbul il prima possibile. Intanto, Yahya si reca da Guzide per avere una conversazione importante. Le rivela di aver ricevuto una proposta di lavoro ad Ankara, con l'opportunità di entrare in Parlamento. Chiede a Guzide se sarebbe d'accordo con il suo trasferimento là, e lei ha consente. Yahya comunica quindi a Guzide di iniziare a preparare le valigie, poiché presto si trasferiranno nella nuova città. Petro fa visita ad Alia e la interroga sul motivo della sua presenza presso Sura, sospettando che la sua presenza nasconda minacce. Alia risponde che devono portare a termine il loro piano prima che lei svanisca completamente. Il piano che implica l'uccisione di Billy, aggiunge che lui deve garantirle una fuga in sicurezza. Petro esita, ma Alia lo mette alle strette minacciando di rivelare a Sura la sua connessione con Billy, e a Billy il piano che ha in mente per eliminarlo. Di fronte a questa situazione, Petro cede alle richieste di Alia, stabilendo come condizione che lei recuperi una lettera nelle mani di Billy. Si tratta della famosa lettera della baronessa, indirizzata a Seyit prima della sua morte. Celil viene portato a casa di Emine in piena notte. La notizia raggiunge immediatamente Seyit, che si trovava a dormire. Con sorpresa e preoccupazione, Seyit si affretta a raggiungere il divano dove Celil è stato adagiato. La ferita brutale sul petto di Celil è evidente e lascia Seyit sbalordito. Poco dopo, Celil sviene, costringendo Seyit a cercare il medico e a raccogliere medicina in fretta. Nel frattempo, Aize e Raki fanno visita ad Ali. Tutti si riuniscono in salotto, compresi Guzide, Yahya, Binnaz e Sabri. Aize racconta che quella stessa mattina, Celil è stato portato ferito a casa loro. Guzide, incapace di trattenere un'esclamazione, attira l'attenzione di Yahya, che la osserva attentamente. In seguito, Guzide si ritira in cucina per preparare il caffè. Mentre fa ciò, bacia il ciondolo che Celil le aveva regalato e prega fervidamente affinché lui venga salvato. Nel frattempo, Emine sorprende Murvet mentre sta lavando i vestiti regalati da Seyit. Manifestando il suo disappunto, critica i vestiti sostenendo che sono come quelli che indossano donne considerate poco virtuose. Ordina a Murvet di gettarli via come se fossero peccaminosi. Seyit ritorna con le medicine per Celil e incrocia lo sguardo sprezzante di Emine. Nella lavanderia giungono due lettere simili nell'aspetto. Una indirizzata a Sura e l'altra a Seyit. Aize riceve notizia da Sabri che Sura sta per sposarsi, che Alia è con lei e che Seyit ha aggredito Petro al momento della scoperta. Senza indugio, corre a condividere queste rivelazioni con Emine e Murvet. Nel frattempo, Yahya sta sistemando i documenti in vista del loro trasferimento ad Ankara. Tuttavia, Guzide interrompe il suo lavoro e gli chiede di concederle del tempo. Argomenta che la decisione è stata presa troppo frettolosamente e adduce scuse come la necessità del suo aiuto nell'hotel. Yahya, tuttavia, rimane inflessibile. La scelta è stata presa e il loro trasferimento sarà imminente. Intanto, il vestito da sposa di Sura è pronto. Mentre Billy si ritrova incatenato a letto con una pistola puntata verso di lui da Alia, i due cominciano a discutere animatamente. Intanto, Seyit si prende cura di Cecil, dandogli le medicine di cui necessita per guarire. Questo è tutto per questo video! Speriamo vi sia piaciuto e se per caso vi foste dimenticati, iscrivetevi subito al canale! Grazie, a presto!